Se vi chiedessero quale animale scegliereste per rappresentare il male, quale utilizzereste? Una prima idea potrebbe essere il serpente, quindi un male che è astuto e che si insinua fra le pieghe delle vostre fragilità. Oppure il leone, un male la cui potenza vi schiaccia annichilendo ogni volontà e ogni progetto di bene. O magari il gufo, un animale cioè che può vedere nell'oscurità, che scruta nei lati più oscuri del vostro cuore e da lì può manipolarvi e spingervi a far compiere ciò che non vorreste. Tutte queste risposte sono valide e ognuno di esse porta con sé, potremmo dire, una concezione e in alcuni casi anche una teologia del male. La risposta su cui però vorrei attirare oggi la vostra attenzione è quella data da un famoso scrittore americano tuttora vivente, ossia Stephen King. Il quale nel 1986 scrisse una delle sue opere più importanti, ossia il romanzo It. Un romanzo che ebbe ben due trasposizioni, una televisiva ad opera di Tommy Lee Wallace, dove il clown Pennywise viene interpretato dal famoso Tim Curry e un'altra invece cinematografica, nel 2017 e nel 2019, composta da due film, entrambi diretti da Andy Muschietti, dove il clown Pennywise è questa volta interpretato dal giovane attore Bill Skargard. Nel romanzo It, Stephen King risponde a questa domanda che vi ho appena posto in un modo molto particolare. Egli sceglie come animale rappresentativo del male il ragno. Ora, il ragno è un predatore molto particolare perché da un lato è letale, letale per il suo veleno, letale per le trappole che tesse, ed è in grado di abbattere prede anche molto più forti di lui. Dall'altro tuttavia è un predatore sostanzialmente fragile, non possiede grandi corazze, spesso non è particolarmente grande rispetto alle sue prede, ed è un predatore che evita sempre i confronti diretti. Questa simbologia scelta da Stephen King è un punto cardine della sua opera e del suo romanzo, proprio perché trasmette una concezione del male non così ovvia e abbastanza originale. La concezione che l'autore vuole comunicarci è la seguente, il male è forte tanto quanto gli permettiamo di essere, il male è sostanzialmente debole. Pennywise, questa creatura dai tratti simili alle divinità cosmiche di Lovecraft, questa entità maligna, questo ragno cosmico, è una creatura che ha trasformato la cittadina di Derry in una sorta di gigantesca ragnatela, di gigantesca trappola nella quale può cogliere il suo nutrimento, ossia la paura e la vita purtroppo di tanti bambini. Egli ha il suo veleno nella sua capacità di instillare il terrore e utilizzare questo terrore per isolare e indebolire le sue prede. Tuttavia, ricordiamoci, nel racconto questa entità quasi apparentemente onnipotente viene sfidata e sconfitta da un gruppo di bambini, i cosiddetti perdenti, i quali riescono ad avere la meglio su di essa a partire da una fondamentale e importantissima intuizione, ossia che it in realtà è straordinariamente debole. Al di là della trama del film e soprattutto del romanzo, che porterà avanti e svilupperà questa intuizione fondamentale, ciò che ci interessa davvero rilevare è che l'idea di King, il suo modo di rappresentare il male, non è distante, anzi è perfettamente integrato, con quella che è la concezione cristiana del male. King, infatti, ci comunica che il suo mostro non solo è fragile, ma soprattutto usa come arma per mascherare questa sua debolezza una strategia estremamente sottile e alla quale dobbiamo stare molto attenti anche noi nella realtà, ossia fa credere alla cittadina di Derry e ai suoi abitanti di essere parte integrante del paesaggio. Detto in altri termini, Pennywise, invece di identificarsi per quello che è, ossia un parassita esterno che infetta il luogo in cui si trova, si fa passare come una forza della natura, qualcosa che è certo doloroso e maligno, ma in qualche maniera inevitabile. Agli occhi dei cittadini di Derry, Pennywise non è poi tanto diverso da un vulcano o da un terremoto, qualcosa cioè con il quale fa soffrire, che distrugge, ma con il quale bisogna semplicemente imparare a convivere. Questa è una strategia che effettivamente il male adotta anche nella nostra esistenza, nella nostra vita. Ogni volta che noi pensiamo che il volgersi al male, il peccare, sia qualcosa di inevitabile per l'uomo, che l'accogliere il peccato dentro di noi e dargli corpo con le nostre azioni sia qualcosa che non possiamo evitare, che farà parte sempre e comunque dell'esistenza umana, allora il nostro atteggiamento, il nostro modo di lottare contro la parte più oscura di noi cambierà radicalmente. Non saremo più dei combattenti che, armati di tutto punto, lottano per distruggere un nemico. Saremo invece degli abitanti più o meno rassegnati che cercheranno semplicemente un modo per convivere e coesistere con questa parte di sé, con questo aspetto della loro esistenza. In certo qual modo chi accetta che il male, il proprio e quell'altrui, sia una condizione inevitabile della sua esistenza, accetta anche una sostanziale resa, una condizione cioè di lotta che si fonda sul compromesso, si fonda sul trovare un accordo, sul trovare uno stile di vita. Accetta cioè che una vittoria totale non sarà mai possibile. Questo pensiero è profondamente anticristiano ed è qualcosa contro cui gli insegnamenti di Cristo si scagliano più e più volte. Il male è sempre, questo ci insegna nostro Signore, qualcosa di esterno, qualcosa che non fa parte della creazione originale, qualcosa che è alieno dalla creazione e dalla volontà di Dio. È qualcosa quindi, proprio perché è alieno e parassitico, che Dio può e vuole rimuovere. Il cristiano, proprio in virtù della sua fede, vive e agisce nella speranza certa che un giorno ogni forma di male verrà rimossa dalla sua esistenza proprio da quel Cristo che l'ha salvato e l'ha redento. Questo, ricordiamocelo bene, cambia radicalmente la prospettiva del cristiano sulla propria esistenza e su quella degli altri. Invece di cercare compromessi, invece di cercare uno stile di vita che possa integrare l'inevitabilità del male con la naturale desiderio di fare il bene, il cristiano è colui che sa di dover vivere senza compromessi, sa di non dover mai lasciare spazio al male, al proprio o a quell'altrui. Il cristiano è colui che sa che pur di non commettere il male è giusto anche sacrificare la propria vita e può farlo non perché sia migliore degli altri, ma semplicemente perché è consapevole di servire un Signore, il nostro Signore Gesù Cristo, che ha già vinto il mondo e che ci ha promesso di portarci un domani in un mondo dove il male finalmente sarà espulso.